Buongiorno da Leandro Maggi, lo vengo in diretta, siamo in diretta appunto con Erika Laurenti e vediamo dove sei, tu sei nel Golfo di Sanremo, Costa Smeralda, perché lunedì scorso, 6 febbraio, a bordo di questa costa, ti hanno dato il premio Delfino d'Oro, assegnato appunto da Tiepoli Viaggio di Porto Viro, guidata da due soci di Porto Tolle, dice l'articolo, per come migliore agenzia il rebooking Aria Nord Italia, ma quanto bravi siete? Allora, grazie, diciamo che è stata una bella avventura, dopo un po' di anni insomma, avere un premio come Aria Nord Italia è stata una cosa che non ci aspettavamo, devo dire la verità, e quindi con grande emozione, devo dire, i colleghi mi continuavano a dire sei tu e io non mi sono neanche alzata perché ero lontana anni luce, e invece devo dire, è davvero una bellissima soddisfazione, però non è merito nostro, è merito dei clienti che ci sono fidati di noi, decisamente. La tua agenzia nasce a Porto Tolle, poi si è trasferita a Porto Viro, il valore aggiunto del vostro successo è la città di Porto Viro? L'agenzia nasce sì a Porto Tolle, ma non era guidata da noi, all'epoca era di un'altra proprietà, la proprietà precedente l'ha sposta a Porto Viro, credo nel 99, quindi un po' di anni fa, io e la mia socia che è Margherita l'abbiamo acquistata che era già a Porto Viro nel 2005, quindi oggettivamente non riesco a dirvi se l'uscita da Porto Tolle possa essere stata un valore aggiunto, non lo so, credo però che Porto Viro sia arrivata in una posizione stranecica, perché comunque stai sulla Romea ci sono diverse, ci sono queste possibilità di attingere su bacini diversi, abbiamo clienti da Pioggia, piuttosto che Rovigo, Villadose, tanta gente dal Terrarese, quindi addirittura di Berra, Serravalle, meno male la posizione di Porto Viro, che è localizzata bene o male sulla Romea, ma al centro del Delta, sicuramente aiuta a lavorare meglio, ad avere piante, un vaccino diverso su cui arriva, è tutto lì. Perfetto Erika, noi ti lasciamo perché purtroppo il collegamento è un po' disturbato, però ti ripetiamo ancora i complimenti, ricordiamo che avete vinto il Delfino d'Oro come migliore agenzia del Nord Italia, ma quanto bravi siete! Grazie mille e alla prossima, un abbraccio, saluto a tutti!